A margine della presentazione del calendario del Museo del Bari 2023, il sindaco Antonio De Caro si è soffermato sulle prestazioni della formazione guidata da Michele Mignani. Grande la soddisfazione e soprattutto la voglia di sognare. Queste due vittorie ci fanno guardare con più fiducia al futuro di questo campionato, però devo dire l'ultima partita in particolare ha fatto emergere uno spirito di gruppo, un gioco di squadra, una determinazione, una condizione atletica straordinaria. Spero sia l'anno giusto per tornare in quel posto, non lo dico, non lo cito per scaravanzia. Un pensiero da parte del primo cittadino non è mancato, neppure a proposito della cavalcata mondiale di Cheddira col suo Marocco. Non abbiamo nemmeno il goleador in questi giorni che è stato impegnato ai mondiali, per sua fortuna, ma anche per fortuna nostra, perché siamo stati tutti orgogliosi di vederlo lì. Infine, breve parentesi sui lavori di restyling che riguardano il San Nicola tra tabelloni e nuove coperture. Abbiamo trovato finalmente sia il materiale giusto che la tipologia che era più complicata di montaggio del materiale per non tornare a quel montaggio di 30 anni fa che poi ha comportato gli strappi sui teloni usurati, quindi adesso la soluzione è stata trovata, pochi mesi e montiamo tutto.